Bontò? Sì Cognome e nome? Alan Giberty Siete in un po' di Giberty in palestra? Sì, siamo in te Ok, tutti in agonistica Hai un soprannome? No, ah sì, ma te mi chiamo Avecchiaccio Perché avecchiaccio perché sei più grande Quanti anni hai? Ho 12 anni Che classe fai? Materia media Materia che ti piace di più a scuola e materia che non ti piace La materia che mi piace di più è la ginnastica Che non vale La materia che mi piace di meno è l'arte Ok Il tuo animale preferito? Il gatto Colore preferito? Il rosso Cibo preferito? La pizza Che sport pratichi? Ginnastica artistica Come mai hai scelto proprio la ginnastica? Ah beh, da piccolo sono venuta a trovare Poi mi sono appassionata e mi sono venuta a farla Da quanti anni la fai? Questo sia il settimo... no, il sesto anno Sesto anno E quanto ti alleni a settimana? Quante ore? 5 giorni a settimana Da 3 ore Quindi 15 ore Ok Il tuo attrezzo preferito è quello che non sopporti? Il mio attrezzo preferito è corpo libero E l'attrezzo che mi piace di meno è il bar Ok L'elemento più difficile che sai fare? Scegli tu a che attrezzo? L'elemento più difficile che so fare... non lo so Ah, è tipo a corpo libero? Ah beh, a corpo libero... Fli che tempo fa alto E su un attrezzo? Su un attrezzo... forse la verticale parola Come ti senti quando sei in gara? Atteso Molto? Sì Hai dei portafortuna? No Come ti senti in palestra quando non ti viene qualcosa? Un po' rambiato ma tanto penso che ce la posso fare e che mi sono da provare e riprovare Bravo E il tuo rapporto con l'allenatore? Andate d'accordo, non andate d'accordo? Andiamo d'accordo... e... bah Non ti sgrida mai? No, sì, mi sgrida quando faccio le porcate, però... Un tuo pregio e un tuo difetto nella vita? Non lo so Cioè, un difetto è che sono disordinato E un mio pregio... Ho una buona memoria nel studio Bene, un bel pregio Ok, fai un saluto matto? Ciao!